Ciao a tutti, io sono Fabrizio Zocca del gruppo Giovanni Paralitura. Il nostro gruppo relativamente giovane l'abbiamo fondato poco più di un mese fa e dobbiamo ringraziare appunto Alberto Pignone perché ci ha sempre sostenuto e senza lui non saremmo riusciti a fondarlo. In poco più di un mese ci siamo accorti che anche alcune delle cose stanno cambiando perché tutti sono convinti che quando Roberto Cotta diventerà presidente del Piemonte le cose cambieranno eventualmente in meglio. Grazie mille.